Un paio di mesi fa abbiamo registrato un video. Sin dal principio non sapevamo se appunto volevamo farlo uscire sul canale. Poi ripensandoci è un'ottima occasione per farci conoscere un po' più da voi, sia dal punto di vista personale che professionale. Io e William diciamo che abbiamo avuto la fortuna di fare il lavoro dei nostri sogni. Lavoriamo nel mondo cinematografico, più precisamente nel settore degli effetti speciali. Grazie al nostro lavoro conosciamo tantissimi studenti e università e in questo caso, con questo video che vedrete, siamo stati invitati dalla West London University per ridisegnare ed approvare il percorso di studi universitari del nostro settore, appunto quelli degli effetti speciali. Questa premessa la facciamo per dire che non è che siamo qua e lavoriamo negli effetti speciali, siamo stati studenti anche noi e anche noi abbiamo fatto la scuola e anche noi abbiamo cercato aiuto dai vari professionisti del settore. Quindi siamo i primi che vogliamo trovare a dare qualcosa. Indietro. Quindi insomma, coletevi questo video, è un'occasione per conoscere un'università del genere in Uniterra, per conoscere un pochino, un po' anche noi. Il nostro mondo. Il nostro mondo e buona visione. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao. Ecco qua. Allora, oggi ce ne andremo alla West London University. Ci hanno chiamato come consulenti per dare una mano a ridisegnare un po' il percorso di studi per i ragazzi del primo, secondo e terzo anno. La West London University ha tanti percorsi di studi che spaziano dalla cucina, alla recitazione, al videomaking, ma c'è anche un corso ovviamente di computagrafica e visual effects. Il nostro compito di oggi è andare lì e dare una mano a loro appunto a ridisegnare i vari corsi ed aiutare i ragazzi ad essere un pochino più attraenti per le aziende una volta finito il percorso di laurea. Se non c'avete niente da fare, seguiteci e ci andiamo a fare una camminata all'altra parte di Londra. Grazie a tutti! Questi ragazzi sono tutte le props per quanto riguarda la mock-up, vedete? E questo è il computer dove c'è tutto il Vicon System, quindi per trevere tutto quello che riguarda la mock-up. Quindi dei posti dove gli studenti possono ricevere supporto da un team specializzato se si sentono sotto pressione dal punto di vista degli studi o dal punto di vista finanziario, perché quelle università sono molto care. è molto interessante che ci sia uno spazio così dedicato per gli studenti. è finita questa mattinata qui alla West London University, eravamo con una commissione scolastica, abbiamo approvato il programma scolastico universitario, universitario di tre anni, per i prossimi cinque anni, per gli studenti che generano la scuola dal prossimo anno. Quindi niente, abbiamo approvato il nuovo programma, è stata veramente un'esperienza unica. È stato bello, quindi è bello come studente appunto raggiungere i tuoi obiettivi nel mondo del VFX e una volta che ci sei dentro cercare di dare qualcosa indietro e aiutare il più possibile gli studenti. abbiamo iniziato qua dalla West London University, speriamo appunto successive collaborazioni con altre università e vi teneremo aggiornati con nuovi video.